Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e benvenuti o bentornati ma bentrovati all'appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario. Calendario filosofico, ovviamente! Oggi è il 18 dicembre 2021 e la frase del giorno è questa. Lasciate che ve la legga. Se hai anche il minimo pensiero di fare una cosa, allora falla. Da un mattone si costruisce una casa. Bellissima, bellissima frase di oggi. La frase di oggi è anonima, è completamente anonima, ma non per questo meno vera. D'altra parte una cosa è vera indipendentemente da chi la dice, perché è la verità a dare autorità e non è l'autorità a decidere cos'è verità. Comunque, la frase di oggi è per la sub-rubrica, il sottogenere, fallo adesso! Che stai aspettando? Ora, ecco, per esempio, sicuramente, spero si capisca che io non ho aspettato che si facesse notte, anche se poi sono le 5 e fa così buio, che vi devo dire, uno ha gli impegni. Mi dispiace, non ho beccato neanche il magico tramonto di Calabria, però, insomma, perlomeno ringrazio di avere un faretto, se no dovevo fare subito dentro. E a me non piace fare i video all'interno, mi piace fare nella natura, guarda che figo d'India! Comunque, ecco, il figo d'India si fa una pala alla volta. Questo è il senso della frase di oggi, no? Che ogni cosa nasce da un seme, il seme si fa germoglio, il germoglio si fa fuscello, il fuscello si fa arbusto, l'arbusto si fa alberello, l'alberello fa albero e se Dio vuole un giorno darà i frutti e dai frutti ci saranno i semi e i semi faranno i germogli e si ripete eccetera. Fatto sta che, insomma, niente in natura spunta dal nulla, ma soprattutto tutto ciò che esiste, esiste per gradi e noi esseri umani, con le nostre grandi ed eroiche imprese, non siamo mai da meno. Siamo sempre tutti quanti frutto di un passo alla volta. Il nostro corpo si è fatto una cellula alla volta e tutto il nostro essere si è fatto una parte alla volta, un grado alla volta, un livello alla volta. Il fatto qual è? È che alle volte un sogno ci pervade e questo sogno a un certo punto viene castrato. E questo perché succede? Questo succede semplicemente perché questo processo di accumulo, che è un accumulo di unità, un accumulo di molliche, un accumulo di granelli di sabbia a far grandi spiagge, ecco questo accumulo viene interrotto. Se non viene interrotto questo accumulo, le cose possono solo crescere. Quindi non si tratta semplicemente sempre solo di vedere le cose come un accumulare. Alle volte si tratta semplicemente di non interrompere un processo. E comunque appunto, se hai anche il minimo pensiero di fare una cosa, allora falla. Perché alle volte le cose non nascono semplicemente perché ci si blocca di fronte al primo granello, al primo gradino, al primo livello. O comunque ecco, proprio all'inizio per così dire. Perché iniziare una cosa in un certo senso è sempre più difficile che continuare qualcosa che si è già iniziato. E il massimo esempio di queste cose, secondo me, lo troviamo nella fisica e nella chimica, nella cosiddetta energie di attivazione di una reazione chimica. Ecco, in generale, in fisica e in chimica, c'è questo concetto delle energie di attivazione. Un qualunque processo chimico-fisico richiede più energia all'inizio rispetto che durante la sua esecuzione. Ecco, proprio a dimostrare, proprio a dimostrare fisicamente, come si suol dire, matematicamente, come si suol dire, che è più difficile iniziare qualcosa di completamente nuovo che continuare un processo già iniziato. I cari spettatori, i miei cari psicocriminali, grazie per l'attenzione, grazie per la visione. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo gentilmente di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati all'uscita di ogni mio nuovo video. Per il resto io, come sempre, vi auguro il meglio e solo il meglio e vi saluto fino al prossimo video. Ciao!